Arrivi in una società, Davide, che ha lanciato tantissimi giovani a livello internazionale. Ti chiedo, l'esperienza tua a Pescara con quale obiettivo? Il mio obiettivo sicuramente è quello di migliorare, di lavorare giorno dopo giorno per diventare un calciatore, un difensore importante. Cercherò di apprendere il meglio da tutti e per poi metterlo in pratica in campo. Le tue caratteristiche tecniche, qual è il tuo punto di forza? Il mio punto di forza, come ho detto prima, secondo me è l'anticipo. Poi il colpo di testa, mentre i miei difetti, diciamo non difetti, dove devo migliorare è l'uno contro uno e la prestanza fisica con l'attaccante avversario. Arrivi a Pescara con una fascia prestigiosa, quella di capitano della nostra nazionale di categoria. Sì, ovviamente rappresentare il proprio paese è un motivo d'orgoglio e penso sia una delle emozioni più belle che un calciatore possa vivere. Ti dico, il presidente in conferenza stampa ha ricordato il gol di Quintero nel classico, ha ricordato i vari immobili, insigne, verratti e tantissimi giocatori che con la maglia del Pescara si sono lanciati. Questo cosa significa per te? Significa che il Pescara è una società che ha vita a far bene, è una società che punta a far bene sempre e punta in alto e quindi non c'è niente di meglio che una società a ambizioni, quindi penso sia la cosa più positiva che ci possa essere. Com'era Gravion con l'Inter? Gravion era un personaggio, diciamo. Io ho vissuto con lui anche in convitto ed era una persona, un ragazzo eccezionale. Lui inizialmente non parlava nemmeno tanto bene l'italiano, quindi un po' lo prendevamo in giro, un po' facciamo degli scherzi, però è sempre stato uno che sul lavoro è sempre puntato al massimo. Poi col passare il tempo ha migliorato tantissimo e adesso infatti si vede il difensore che è diventato. Proprio l'ultima, Gasperini cosa ti ha detto quando gli hai detto vado a Pescara? Gasperini ha detto che era molto contento della mia scelta di aver accettato il Pescara e ha pensato che fosse l'unica società in cui puntavosi giovani e potevo crescere. Quindi lui era contentissimo della mia scelta.